Manuel Nocciolini come valuti il tuo inizio di stagione? Un buon inizio sicuramente, non era facile comunque dopo lo scorso anno ripartire subito bene quindi secondo me un inizio di campionato positivo e ovviamente uno poteva fare meglio come penso tutti i giocatori vogliono fare però sono abbastanza contento. La Samb sembra in crescita quali sono i consigli e direttive su cui sta battendo di più Zironelli? Lavoriamo tanto sulla tattica durante la settimana e quindi sta cercando di farci assimilare il prima possibile tutti i movimenti, i meccanismi che poi vuole riportare alla domenica quindi lavoriamo tanto sulla tattica su un giro contro zero anche con squadre contrapposte e questo sicuramente porterà dei benefici. Ti trovi bene in tandem con Lescano e quali sono per te le differenze quando giochi con Lescano o con Botta? Sì sì mi trovo bene oltre che con Lescano tutti i giocatori davanti perché siamo tanti ma siamo tutti con caratteristiche diverse quindi ci possiamo sposare bene insieme ogni domenica. Tra loro due basta vederli anche magari come caratteristiche fisiche uno è molto più forte magari a tenere palla, spalle la porta, l'altro ha una tecnica veramente importante e sicuramente è fondamentale per saltare l'uomo e per metterci in porta. Quanto sarà importante dare continuità battendo Ravenna? Penso non è importante, è fondamentale perché comunque dopo due pareggi e una vittoria la continuità è fondamentale. Anche la vittoria di sabato scorso magari se tu non avessi vinto i due pareggi non avevano quel senso lì. Invece è stato importante vincere e sarà altrettanto importante continuare a vincere. Ultima domanda, la partita dell'ex che partita sarà? Una partita come le altre sicuramente ci sarà un po' di emozione comunque ho passato due anni importanti. Il primo anno molto più positivo rispetto al secondo però sicuramente sarà bello tornare al Benelli e rivedere tanti compagni e tutto lo staff dirigenziale.